Micas de Vila Algaresa esufelta de... Amara Manifestación de Gualdiagran Sapote día que son acabadas las semanas dedicadas a la experiencia que se viven en aquel que es considerado el mundo rural. Y cuando hablamos del mundo rural, hablamos de Anurra Algaresa, partidos de Porticontal, Balcia, Gualdiagran, Portoferro, Santa María la Palma, Maristela, La Sagara. En cuanto las diversas asociaciones han programado un calendario de manifestaciones que por el mes de un mes han volgido representar con su avión el mundo agro-pastoral de Anurra, representando no solo la realidad del territorio, pero también la historia de Anurra Algaresa, a partir de cuántas son estas ocupadas las terras de obras de bonificación de pautas del ETIFAS al periodo de la reforma agraria en Saldegna, hasta cuantos han estado construidos los cantillos y dadas en concesiones a señatarios. En aquellas semanas se son algunas encuentras, debates y representaciones que han coinvolgido la gente de las bulgaras. Gente que se se confrontara ama estudiosos, artigianos del mundo rural y del propio territorio. En pocas palabras, un evento de memoria. Cosa dirá? L'organización es a estar a volgura de parte del comité zonal de Anurra, en colaboración con la asociación cultural y deportiva de Gualdia Gran y el comité de los festejanos siempre de Nuestra Señora de La Gualdia, la asociación de Empieño Rural de Santa María de la Palma y tantas otras aziendas del territorio que han contribuido para que la manifestación se hiciera. Pero nosotros no hemos volgido a faltar a aquella que se estaba la conclusión de esta manifestación. Y hemos volgido estar presentes. A vosotros somos a Gualdia Gran, donde nos dice a esa bella, fiesta, la volgura del comité. Y a nosotros nos acompañamos a Salvatore Masala. Buen día. Buen día a vosotros. Y hemos logrado esta manifestación por lo que hemos visto un momento de agregación, un momento de participación de tanta y tanta gente en la cura de Caraglioc, no solo de la Aigüe, pero también de otros centros de la Fuerza Estela. Se nos gustaría estar presente, también hemos logrado esta manifestación, para demostrar que la Aigüe hace falta completamente de los territorios de la Aigüe, o de la Aigüe. La Aigüe no es solo el polo, la Aigüe no es solo el pasaje, las torres, pero también la Aigüe, donde a vosotros existen Gualdia Gran, Santa María la Palma, la Sagara, insomma, tantos y tantos territorios. Y ahora, Salvaro, ¿cuál es el mejor modo de comenzar? ¿Has querido hacer esta manifestación? ¿Por qué motivo? Es siempre un motivo de la importancia que hemos recortado el pasado. Y a propósito de la Aigüe, la Aigüe, a más de la Aigüe, la Aigüe ha recortado a los Aigües, Balcia, he recortado a los Aigües el Portoferro, la torre del Portoferro, por los pascarolos, por los marineses, y la zona de Balcia para la Palma, no, la Palma Nana, los promesos de los Aigües, los altenes del Crino, los altenes de la laboración de los Aigües, a los Aigües, eran los dueños, eran los que llevaban al país, a los Aigües, a los Aigües. los Aigües de los Aigües, los Aigües de los Aigües, representan el pasado nuestro, los aigües de los Aigües, 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 durante la tuya vida. Allora, Magrera dirá Aigües de los Aigües, lo que yo soy nato al 50, y soy nato a Itiri, soy arribado, a Nanchí, a Settembre del Mignone, no sé si ence 54. Palla al Garese, ma tal y un poco de excusa, no, assolutamente, el Pallas es bastante bueno. Soy no su, como a decir, omologata al 100% a mala lengua, pero, ecco, la dificultad que habían tenido a primer Aigües, yo Mignone de los Aigües, ma trubaba que fe, a más altos, a menos de los Aigües, de los Aigües, de los Aigües, y que eran acusados los Aigües, uno sabía de los Aigües, uno se compranía de los Aigües, acusados los Aigües, de los Aigües, obligarse a estar juntos, y es un lugar, es un modo de agregarse, la manera para obligarse a encontrar una vía de ida, acusados los Aigües, de ampararse la comunicación. Acusamos visto que hay tantas, tantas imágenes, de los Aigües, que han sido a los Aigües, que han vivido las campañas, y a los Aigües, de los Aigües, de los Aigües, y de la Nura. Y ahora, tra pocos, los Aigües también, en Prasa, donde, apunto, se hubiera hecho, el modo, de crear una situación, de tantas producciones, non soltanto del mondo di Emaceco-Malsal, ma soprattutto artigianale. Sì signore, erano un po' di tutti, perché le provenienze erano diverse, non erano solti la masseria, non erano solti la marineria, erano un po' di tutti. Erano artigianze di chi sapeva di lavorare a Palma, quindi avevano l'uscestins, avevano la scolbura, avevano un sacco di cose. Naturalmente tutti questi saperi sono stati puntati un po' avanti, naturalmente qualcosa l'avviene in Paldura, ma altrimenti l'avviene in Mantangura, altrimenti ancora l'avviene rivivita, l'avviene rilanciata. Ecco, il movimento di Christos Dias, la giornata di voi, ha un po' di che significati, recuperare la memoria, scambiare la memoria, ma anche se accorre insieme e tracciare un altro bus di destra. Sì, ma prassetta di Gualdiagra, non ti la manifestazione sta svolgendo, ma soprattutto sta accorrendo tutti gli agenti che vogliono partecipare a una manifestazione assai ampuntata per la Borgara. Naturalmente sì, per la Borgara è una cosa abbastanza ampuntata, è un momento di visibilità, e quindi è una cosa che fa prelie a chi ha sposto. La gente che arriva è la gente curiosa, la gente che vuole comprendere o approfondire o sapere del mese degli occhi passati, degli occhi, come dire, la via nostra è una via rurale, una via di campagna, ma che però è una via di campagna che produe, con anche tante imprese che produscono un po' di tutti, anche dell'ortofrutta, al via, all'ori, ma anche artigianato e anche tante altre cose che interessano. Quindi è legittima la curiosità, ma è la cosa che mi sveglia, è la cosa che mi sveglia a questo momento delle socialità che si fa tra campagna e la città. E non abbiamo capito che guardia grande, insieme a tante altre borgarie, a Santa Maria Palma, alla Sagara, e tante altre fanno parte di quel che è il parco dei porti conti, che sta salcando di tutti lì, che sono certi spruizi, che vengono appunto coltivati, prodotti in questo territorio. Anche tutti i punti forti, e anche se è una miniera che la città di Alghe si appolta con sé. E quindi, parlanti dei punti conti, parlanti dei territori mesambizi, mesbensi, che sono al Mediterraneo, è una potenzialità economica assai grande, magari se ti fanno pochi di autocritica, puoi dire che pochi siamo raggiunti a farla produrire. il potenziale che gli esi è assai molto grande, queste manifestazioni come queste di voi mi spolta a essere un po' più sensibili, o a mi sensibilizzare anche a dei mesi, per fare un pass anche a mesi gli occhi, a direzione dell'economia. Rispetto ai tempi passati, è diminuire il modo di lavorare la terra, soprattutto i territori, oppure è stato spaltato qualcosa per creare altro progresso per lavorare i territori? Nella epoca c'è la storia sua, per me per produrre, o per lavorare, o per coltivare, un bus di terra, io vorrei tanta mano d'opera, tanta braccia, a voi per lavorare, l'udobra, o tanta superficie, insomma, basta un uomo, per cosa si è meccanese a tutti, ma il problema non è a chiese, il problema non è mai prodotto, il problema è riuscire a trasformare i prodotti che la terra produce in pratica e a collocare al mercato, che a questo non è una cosa facile, non è una cosa semplice. Tanto in tante potenzialità, sembra un territorio del parco, quindi un territorio che esprime già di per sé una condizione di salubrità, perché anche io ormai non sapevo di fare mesarese, quindi non pensi, non pensi, se la cosa stessi di fare, la stessa in una certa maniera, quindi la garanzia del consumo è assoluta. Abbiamo una bella rapporta a Spagna, a Catalogna, e che non riusciamo a posare i frutti, perché la Catalogna riusciamo a far arrivare i prodotti a casa nostra, invece i musalti ancora non riusciamo a far arrivare i nostri a casa di loro. Questo è tutto un discorso che ha arrivato bene approfondito per spostare una crisi a Carragiara, anche una crisi a iniziativa dell'amministrazione comunale, una crisi a direzione. Nel momento in cui abbiamo spostato insieme a discutere, una discussione arriva l'altra e chissà che non si accreia qualcosa di concreto che vada in una crisi a direzione. di una bancarella, una bancarella di M che presenta e produce che è il padre di casa, il padre che si aveva una volta a M a Marriga, il padre che aveva i nostri aio, le nostre maras, e che dopo a M a Marriga veniva appunto, affonata a sforzi di niente, a voi non si mette a sforzi di niente, però il procedimento, il traballo è sempre a Chiel. Ecco, anche se mi pare che sia il panificio Cercchi, che è appunto un panificio di gente algarese, che è il proprio laboratorio all'Umero. Benissimo, Cercchi, un nome e una garanzia. Antoni è il figlio di un assegnatore, quindi di Chiela Alganese, che è svanguta a Riforma, che è svanguta a Nur, dell'alghè, e che è sentito il primo genito, ha decidito un po' che gli gira la famiglia e ha trombato un altro ampreo. Quindi già la mia patita ha scomanzato a crescere e l'ha portato a fare il panetè. E a voi sempre è in faccia dello stand che ormai siamo passati già di altra generazione perché lo portano avanti, sì, collaboriamo ancora sempre a lui, però è il genere e gli sfilsi che lo portano avanti. hanno una idea di dire massa bella, massa condivisibili, per cosa? Per cosa vogliono fare? L'upper ha una farina nostra, quindi ha una frumenti che produriamo in questa zona e che lo trasformiamo in farina e la farina diventa l'upper attraverso appunto la mamma riga che è la tradizione un po' che passare e che loro invece vogliono rilanciare. E la Chiesa è la bagliese, è il motivo della loro presenza perché è una presenza anche a Chiesa che sta a stimolare i movimenti del mondo rurale che hanno a questi di questi giorni se stanno avendo l'occasione di poter parlare. Ecco, naturalmente la bancarella del Pa e altre bancarellas che presentan fruitas che presentan prodotti ad artigianalsi criazze ma le proprie manze le cose di gioco le cose le cose un po' di tutti. È una festa è un'aggregazione? È un'aggregazione, sì, è una sintesi che ha che valente di tutta una serie di producioni che hanno raiato. Noi sono tutti perché ho imprese più o meno grandi a raccordiamo di Santa Maria della Palma che è la cantina come dire a depese dei livelli che anche in questo momento non è non a livello di qualche ampoglia che si affavera ma però si presenta in questi territori e giusto appena mantuva una una riforma che ha tagliato l'occasione per essere rafforzato in maniera consistente al mercato quindi sono le grandi sono le partite e non sono solo quelli che vogliamo ma neanche ma neanche e a tanti altres per quanto riguarda invece il modo di portare quella tradizione di la quina del territorio cosa ha pensato di che fa il comitato beh a voi lo comitato anche rappresenta l'aquina però raccordiamo che sono un'aquina a varie gara cioè anche ha diverse tradizioni per cosa già siamo spostati non di sai ma anche di 20 km e anche anche a Itili anche anche a Lumero o addirittura se coinvolgendo i farraresi anche anche a Ferrara anche anche a nord Italia comprare l'ego che ha una moltitudine di tradizioni anzi una moltitudine di saperi e quindi se parlando di qui ha un'aquina che ha imparato a fare a casa e quindi ha chiesto una fiera una fiera quasi nazionale non vuol dire grossa ma insomma una fiera che va oltre le mura algheresi ovviamente per cosa perché non si rappresenta solo la caglia dell'Alghè a nurra non è solo la caglia dell'Alghè ne ha tantas e a voi che c'è peculiarità dell'anurra dell'Alghè è una peculiarità che vi condivisa o vi condivirà dei ragenti e porta a che spunti la curiosità ma che va oltre la curiosità perché la possibilità di assaggiare di degustare lo sprazio che le famiglie hanno preparato è una cosa abbastanza soddisfacente cosa che mi ha dato di che mi ha fatto i praiei deve essere che ha gente giovane che rappresenta questa associazione gente giovane che ha la passione di un discurso proprio detto un'anno al tempo passato è un'altra generazione che questo gruppo di mignonsi che si vengono naturalmente da spese di me ormai ha un'altra ancora e questa cosa fa abbastanza per gli vuol dire che le famiglie continuano a mantenere una salta in postazione e quindi evidentemente le tradizioni non morono e questo è una cosa che fa ma saprà lì e se questi mignonsi la rapprenano e la adeguaggiano a situazioni nuove sembra giusta di che ho per quanto riguarda torna il modo di mangiare il modo di confrontare come hai detto tu diverse etnias per cosa i tiresus viranovesus algaresus nonresus e soprattutto i farraresus ecco a voi cosa preparate perché avevo tanta gente mangiata cosa cosa avevo preparato io ho un po' chiettoti io l'uveglia bullira che è una tipica pastorale sarda no si aveva bullito come direbbe un sardo l'uveglia bullira con di carriva un algaresi ma io stavo mangiando branchi che è un simbolo è un del solo già racconta una storia e e i tortellini perché qualcuno che è un posto appena appena mese agli unti che vede l'emiliano che vede il ferraresi e stanno che collabore non manca un bus di pulchetto che rappresenta una quina pastorale sarda rurale e cose ne ha tantas di dolce e sfesta in diversa maniera e quindi carriva anche quasi non dicono competizione ma insomma lo che fa io mi sborda il tuo e che c'ha cosa porta a una certa puntiglia a t'ampegnare dei mesi e appunto cosa sborda sborda Ma questo è effettivamente che c'è l'antagonismo di un'altra cosa più buona, di parte delle famiglie? Sì, è un antagonismo buono naturalmente, è buono, però questo... Ma è un modo anche di comunicare e di comunicare con noi, Saru? Sì, signor, perché io mi piace cantare, non si depreva i voli, perché se no, che gusto ha? E allora se non si anima a che fuggere, è un fuggere buono che porta naturalmente a essere più attenti e a fare cose più precise, e quindi è una competizione sana, e si impara, e si cammina, insomma. Ecco, per un prossimo futuro, cosa dà a Manau, voi altri, di emasci, alle istituzioni locali? Eh, vabbè, voi altri stanno bene, siamo consciori, perché l'idea che abbiamo portato a essere consciori e tranquilli, e il miracolo non ha guardato a nessuno. Noi tutti sappiamo che se vogliamo crescere, le attuali siamo tutti, le attuali sono le imprese, sono i lavoratori. L'amministrazione comunale può giurare, può favorire, può creare condizioni, però senza dimenticare che le attuali sono le imprese, se le imprese comprendono che per fare altri passi in avanti, se posessero un po' di messa insieme, se fassessero delle messe cooperativi o cooperazioni, è una strada sicura che porta a risultati diversi. D'altronde, l'esempra è sempre la cantina social, che è una cantina feta dei cooperativi, attraverso l'istituzione di una cooperativa, è sempre l'esempra di un modello vincente, che va a dimostrare che il sole si smassa patiti, e se però tutti i patiti si apposano insieme, può essere una cosa più consistente, o appena dei mesi un po' più consistente, che sta consentesi e sta confrontando i malcati, perché alla fine il problema è sempre il stesso. Quindi cosa mi fa guardare dell'amministrazione comunale? Mi fa guardare che mi ascolti, che mi dici un spazio, che mi favoresce le iniziative schietanine, a ciò poter fare, a ciò in alcune occasioni la staffenti, vedi il piano di valorizzazione che il sindaco parlava, che c'è mai tì, che mi riguarda, perché se si sviluppate e si decostruì, se io ti ho fatto un allevamento di crema, ti ho fatto una stalla, se ti ho fatto la pumata per tutti i lanti, ti ho fatto una serra, e poi a ciò cosa non è che il piano regolatore, a ciò cosa non ha consentito di fare. se a ciò cosa non ha consentito di fare, io a ciò attività non ho poca svilupparla. Quindi tutta una serie di azioni che si fanno, tenendo a fare una sintonia, una sintonia ma a leggi, ma una sintonia, io dico, ma una sensibilità che si sta da parte del Crescent Minister su un po' che è da spaltante. Per quanto riguarda una domanda di emaci tecnica a da mondo del territorio, la nurra, lo territorio della nurra aigaresa, ma sai, il territorio che ti ha a disposizione? Beh, il territorio, se la spremiamo, a un ettaro, se ne parliamo di qualche migliaia di ettari, il territorio si comprende, per l'algaresa, perché il vivo è facile, una volta che si alpenne il ponte Fertilia, dal ponte Andaspres, finchiamo che non si fermi la marina, la marina si ferma a Pulticonta, a Porticciolo, a Poltoferro, a Balcia e semmo a Naglia, ecco, lo territorio algarese, semmo che, da spese dell'altra parte, quando arriviamo alla strada dei due mari, avevamo fatto l'alghe, avevamo fatto l'alghe produttiva, una piana di tarre fertile, si può prendere qualsiasi cosa, si può produrre qualsiasi cosa, sia di frullita, sia di ortaggi, di raine, di oriva, di qualsiasi cosa, e lo clima, la fertilità del tarre, la bonifica sfetta, la riforma, la gente che vive, che quindi porta la tradizione del sapere, di cosa cultiveggia, di cosa saliveggia l'animale, e che esce su una potenzialità, si tratta di trovare, come dire, la strada giusta, per riprendere un cammin, che avevamo un po' interrompiti, per certe cose, per altre camminano già, e donano dimostrazione, ecco, a che momento, vuole, come dire, vuole sintetizzare, perché se tu mi avvisas a parlare di che c'è cosa, per cosa mi hai avvisato, perché anche tu, se non c'è anche curiosità dell'evento, a strubare a me, a strubare a tanti altri, e ti apposano da mannare, e a ciò, però, a da mannare che tu ti apposano, costringersi a stambiare l'altro, a esprimire un parescia, no? E a che parescia cosa è? Se non è una relazione, se non è un modo, che l'evento, non ci ha costringito, di fai, senza l'evento, come si fossero incontrati, forse sì, e forse no. Benissimo, io ringrazio a Salvatore Masala, che fa parte del comitato, dell'associazione della Nurra, a una checia, gran manifestazione, di conclusione, di accambamento, di quella che è stata, cinque settimane, che vi ha visto i protagonisti, e a voi, anche a Gualdi a Gran, se sconcluire questa manifestazione. Io ringrazio a voi, per le opportunità, e per le sensibilità, che avevo tenuto avanti, a mausastrumenti, per chi non ha tenuto la possibilità, di essere presente, a questa manifestazione, attraverso questo racconto, a mei mezzi moderni, di chi ho, si ha portato a casa, come dire, una situazione, che andava a vivere, andava a vivere la pena. Grazie. Grazie a tutti. Mica Sdevira Algarese, esastrata uffelta di... Agenzia Valverde di Costantino Marcias, da oltre trent'anni al vostro servizio, con serietà e discrezione. Telefono 335 454656. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.